Buonasera, bentrovati ad una nuova edizione del Tg6 che apriamo parlando di cronaca. Siamo a Pescara perché sono stati catturati due cittadini romeni che nella mattinata di ieri erano evasi dal carcere di San Donato. Una fuga durata appena 10 ore nella serata di ieri. La cattura, i dettagli sull'operazione questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in questura a Pescara. I dettagli nel servizio di Stefano Recanati. E' durata poche ore, anche a causa del caldo che hanno tolto loro le forze, la fuga dei due evasi nella giornata di ieri dal carcere di Pescara. A catturarli sono stati gli agenti della volante e della mobile che sin da subito avevano avviato le ricerche con diverse pattuglie, oltre che all'ausilio di un elicottero. I due detenuti di nazionalità romena di 22 e 25 anni si erano nascosti poco distante dalla casa circondariale. E' stata una zona sempre presidiata, tant'è che loro non si sono mossi da un canneto, poi abbiamo capito che era un canneto lì alle spalle della casa circondariale, per tutto il tempo. Nel momento in cui hanno alzato la testa, perché probabilmente anche estremati dal caldo per abbeverarsi e cercare di focillarsi lì vicino, sono stati notati da un residente, ci ha chiamati, costantemente al telefono con noi siamo arrivati a una breve fuga, a piedata, con scavalcamento di cancelli di varie abitazioni, fino poi a essere inchiodati lì in una traversa di via San Donato. Ancora una volta è stata fondamentale la collaborazione con la cittadinanza. E' una cosa che io personalmente ripeto sempre, la collaborazione tra tutti coloro che si trovano su un determinato territorio, siano civili, siano militari, siano forze di polizia, è fondamentale perché da soli poco possiamo fare, ma forse con il contributo di tutti riusciamo dove il singolo non può. Si tratta della terza evasione nel giro di poco meno di un mese e mezzo dal carcere San Donato. Lo scorso 11 luglio un detenuto egiziano, 21enne, era evasso ed era stato poi rintracciato e arrestato otto giorni dopo. Noi restiamo alla cronaca, ma da Pescara ci spostiamo a Chieti. Un pakistano di 31 anni, residente da circa tre anni nel capologo teatino, è impiegato in un'attività di lavaggio auto, è stato raggiunto da un decreto di espulsione amministrativa per motivi di ordine e sicurezza pubblica, emesso dal prefetto di Chieti, in quanto ritenuto socialmente pericoloso ai sensi della normativa di prevenzione. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del ROS e dal comando provinciale di Chieti, coadiuvati dall'ufficio immigrazione della Questura. Gli elementi alla base del provvedimento prefettizio di espulsione sono stati raccolti nel corso di una complessa indagine condotta dal ROS e dal comando carabinieri di Chieti sotto la direzione della Procura della Repubblica, direzione distrettoale antimafia e antiterrorismo dell'Aquila. Le indagini dirette dal Procuratore della Repubblica Michele Renzo e dal Procuratore Simonetta Ciccarelli hanno consentito di raccogliere una serie di elementi indicativi di un rapido processo di radicalizzazione, l'approfondito monitoraggio delle attività eseguite sul web e tramite profili social dal pakistano, oltre a evidenziare la pubblicazione di foto e commenti ineggianti alla formazione di un califato islamico e della Jihad, sentimenti di oio e disprezzo per le istituzioni democratiche, nonché un completo disinteresse verso l'integrazione nella comunità italiana, hanno consentito di cristallizzare una serie di condotte orientate alla propaganda e al sostegno in favore di alcune organizzazioni di segnalata natura estremista, o comunque ad esse vicine o riconducibili. Lasciamo per il momento la cronaca, parliamo di sanità, dopo il ferragosto infatti ripartono le vaccinazioni presso gli hub vaccinali della provincia di Pescara, sabato prossimo è previsto un open day per i cittadini over 12 anni a lanciare l'appello a sottoporsi al vaccino e Rossano Di Luzio, responsabile vaccinazioni dell'ASL di Pescara, vediamo. Facciamo un punto sulla situazione per quanto riguarda le vaccinazioni Covid-19 sulla provincia di Pescara, quali sono i dati? I dati sono molto buoni, abbiamo vaccinato fino ad oggi il 79% della popolazione vaccinabile con la prima dose e il 65% ha effettuato tutte e due le dosi, quindi sono dati che sono al di sopra della media nazionale. Passato il ferragosto ci sarà sicuramente un'accelerazione, infatti per la provincia di Pescara il 21 sabato è previsto un open day per le vaccinazioni. Sì, a tal proposito io invito tutti quanti a approfittare di questa data per terminare, possiamo dire, perché oramai siamo veramente alle fasi conclusive della campagna vaccinale, per poter vaccinare le restanti persone che stanno decidendo in questo momento di vaccinarsi. Io invito tutti quanti a vaccinarsi, i giovani stanno rispondendo molto bene alla campagna vaccinale, devo dire anche i genitori di questi ragazzi che li stanno facendo vaccinare. Abbiamo una piccola fascia di età tra i 60 e i 75 anni che è ancora qualche titubanza. Spero che nei prossimi giorni queste titubanze possano diminuire e avere più persone vaccinate. Per chiudere possiamo dire quali sono le modalità di accesso a questo open day? La modalità di accesso per gli hub di Scafa e di Penne è il sistema poste, la piattaforma di poste, mentre per Montesilvano e Pescara mediante la piattaforma dei rispettivi comuni di Pescara e di Montesilvano. Comunque dalla prossima settimana potranno accedere anche presso l'hub di Pescara senza penultazione dalle 11 alle 13 tutte le persone che vorranno vaccinarsi. Speriamo di superare l'80% sempre della popolazione vaccinabile, cioè l'80% della popolazione che ha più di 12 anni. Penso che questo obiettivo lo raggiungeremo, considerato che adesso siamo al 78%, quindi altri 2-3 punti percentuali non penso che ci avremo problemi e quindi avere, speriamo, quell'effetto gregge che tanti si auspicano. Noi restiamo in argomento andando a vedere la notizia riguardante proprio i positivi della giornata di oggi diffusa dall'assessorato regionale alla sanità perché sono 143 di età compresa tra 2 e 94 anni. Infatti i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo e che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 77.791 persone. Il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni e risultato in carico ad un'altra regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi, resta fermo a 2.519. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73.188 dimessi e guariti, più 85 rispetto alla giornata di ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2.084, più 57 rispetto a ieri. 57 i pazienti, meno 4 rispetto alla giornata di ieri, sono invece ricoverati in ospedale in area medica. 11 più 5 rispetto a ieri con 5 nuovi ingressi in terapia intensiva, mentre gli altri 2.016 più 56 rispetto alle 24 ore precedenti sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.411 tamponi molecolari e 3.854 test antigenici. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari a 2.28% del totale dei casi positivi. 19.649 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 20.023 in provincia di Chieti, 19.014 in provincia di Pescara, 18.346 in provincia di Teramo, 631 fuori regione, 128 non verificati in quanto non si conosce la provenienza. Noi lasciamo la pagina della sanità, parliamo di acqua, dell'emergenza idrica nella nostra regione che colpisce più zone dell'Abruzzo. Siamo a Silvi dove il sindaco Andrea Scordella ha aperto il COC e ha richiesto l'intervento della protezione civile regionale. Ci dice tutto nel servizio Giuseppe Dintino. Abruzzo ancora a corto d'acqua, i cambiamenti climatici causano siccità e inoltre gran parte della poca acqua a disposizione si perde lungo le vetuste reti di distribuzione lasciando a secco i rubinetti. Secondo un rapporto Istat del 2018 in Abruzzo oltre la metà dell'acqua è sprecata, una media questa superiore a quella nazionale. A subire la carenza idrica sono in particolare i comuni della costa dove in estate con l'afflusso dei turisti la popolazione cresce anche di tre o quattro volte. A Silvi il sindaco Scordella ha aperto il centro operativo del comune e ha richiesto l'intervento della protezione civile regionale. Una grave difficoltà soprattutto sul nostro territorio perché Silvi ha toccato veramente un numero di turisti sul territorio importante parliamo degli 80 ai 100 mila presenze in questo momento, dunque l'acqua scarseggia. Abbiamo sollecitato sia l'ACA ma ieri anche la protezione civile regionale proprio per dare delle risposte importanti attraverso le autobotti che devono distribuire acqua sia agli utenti privati ma soprattutto anche ai tanti alberghi alle tante attività di ristorazione che insistono sul territorio. L'ACA al momento ha disposto due serbatoi nel comune della costa teramana dove chi ne avesse bisogno può rifornirsi di acqua potabile. Uno si trova al Palapiomba e uno nei pressi del multipiano. In attività anche un'autobotte non è sufficiente, dice il primo cittadino, ma nei prossimi giorni dovrebbe arrivare almeno un altro mezzo. A Silvi la maggior parte dell'acqua, circa il 90%, è fornita dall'azienda consortile acquedottistica che ha centellinato l'erogazione e ridotto la pressione. Il resto arriva dalla Ruzzoreti che al momento ha chiuso i rubinetti lasciando a secco la parte nord della città. Abbiamo avuto una buona notizia, sperando che sia vera, che è quella del flusso da parte della Ruzzo per un flusso di emergenza che dovrà aumentare nelle prossime ore. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Torniamo alla cronaca. Un bambino di 6 anni con ustioni di secondo grado sul 30% del corpo, avvolto, collo, torace e arti superiori è stato trasferito in prognosi riservata al Policlinico Gemelli di Roma dopo un primo ricovero a Chieti. All'ospedale Teatino il bimbo è arrivato in tarda mattinata da Torrevecchia a Chiatina dove nell'abitazione di famiglia in una zona di campagna mentre giocava con i fratellini ha urtato inavvertitamente la fornacella con cui i genitori si apprestavano a cuocere gli arrosticini ed è stato investito da un ritorno di fiamma provocato dall'alcol contenuto in un flacone utilizzato per accendere il carbone. Subito soccorso il piccolo è stato portato dal padre all'ospedale di Chieti da dove intorno alle 15 di questo pomeriggio è stato trasferito a Roma in ambulanza. Lasciamo la cronaca, torniamo a Pescara, parliamo della riserva d'Annunziana perché con l'ausilio di esperti il Comune ha effettuato delle ricognizioni all'interno della riserva d'Annunziana andata in cenere lo scorso 1 agosto dopo un accurato studio, tanti gli alberi che verranno salvati. Massimo Robottini, esperto che collabora con il Comune di Pescara tenete sotto d'occhio la riserva d'Annunziana anche dopo l'incendio, la facevate già prima e purtroppo ci sono delle piante da abbattere. Sì, purtroppo sì, noi già dal 2 siamo entrati in campo per cercare di salvaguardare il salvabile nel senso che tutte le piante che sono state ritenute che potessero avere anche una piccola chance di vita le abbiamo tenute in piedi. Le altre purtroppo che erano bruciate, avevano condizioni di stabilità precarie abbiamo deciso di farle abbattere. Ecco, questo è un lavoro che comunque col Comune di Pescara inizia anche prima dell'incendio. Già eravate sul posto per tutelare queste piante? Sì, l'incarico è già da dicembre dell'anno scorso. Noi tenevamo sotto controllo già tutta la pineta, avevamo già fatto 400 valutazioni, 400 monitoraggi sulle piante che purtroppo abbiamo dovuto riprogrammare, rifare e rimodulare. Anche a seguito dell'incendio, quanti saranno le piante, il numero che andranno abbattute e quale quelle che potranno essere tenute in piedi? Diciamo che ad oggi siamo a circa 190 piante da abbattere, comprese quelle che già sono state fatte per il ripristino della viabilità e circa 220-230 per la mitigazione del rischio, quindi potatura. Abbiamo dovuto abbattere alcune piante che non potevano essere salvate, ma il lavoro continua per cercare di salvarne il più possibile. Poi passeremo, ma da subito, alla fase del ragionamento sulla ricostruzione. Io a brevissimo convocherò degli esperti in materia per poter ragionare con loro e creare anche un gruppo di lavoro sul futuro della Pineta, sulla ricostruzione della Pineta, sulla rinascita della Pineta, perché una cosa è certa, la nostra Pineta dovrà rinascere ed eventualmente anche essere ampliata, perché questo è l'obiettivo dell'amministrazione, il mio personale e credo di tutti i cittadini di Pescara. Dal vostro punto di vista quale sarà il futuro della riserva? Questo non sta a me dirlo, sicuramente il corso è la natura che farà il suo corso e detterà le leggi delle piante che potranno poi sopravvivere. Proseguiamo e ci spostiamo nella Marsica. Lo scorso 4 agosto è stato sottoscritto infatti un protocollo d'intesa tra la direzione regionale dei musei ed il comune di Celano per la gestione del castello Piccolomini. Alcuni spazi saranno a disposizione per alcune manifestazioni dell'ente che a sua volta si occuperà di una serie di lavori di manutenzione. Sindaco torniamo a parlare del castello di Celano, c'è un protocollo molto importante che è stato siglato lo scorso 4 agosto, 20 anni d'attesa ma si è parlato già di un documento storico, perché? Sicuramente è fondamentale per la nostra città sotto tutti i punti di vista non solo culturale ma anche economico e con la nuova direttrice Margozzi siamo riusciti a trovare l'intesa e finalmente a siglare questo protocollo d'intesa che consentirà da una parte alla sovrintendenza e da una parte al comune di Celano di trarre i maggiori benefici. Come questo si tradurrà in benefici per la comunità di Celano? Consideriamo che questo è il museo più visitato da Abruzzo, ormai da oltre un quinquennio e potrà essere integrato attraverso ulteriori manifestazioni d'intesa tra la sovrintendenza e l'amministrazione comunale che renderà sempre più appetibile il nostro museo e quindi tutto ciò che circonda il museo stesso nel nostro centro storico. È sicuramente un protocollo importante perché non vale soltanto per quest'anno ma è prorogabile per ulteriori due anni fino al 2023. Ci siamo ripromessi con la stessa sovrintendente Margozzi e la direttrice Gertrude Di Matteo della possibilità di andare anche ulteriormente dopo il 2023. Questo permetterà di pianificare assolutamente una programmazione di livello con spettacoli assolutamente di spessore come sta già avvenendo in quest'estate richiamando sempre di più un alto numero di spettatori e quindi di turisti nella nostra città. E noi ora parliamo di scuole perché a dieci giorni dalla riapertura dei nidi sono ancora circa 180 i bambini in lista per un posto negli asili nido comunali della città di Pescara. Il coordinamento dei genitori e gruppi consigliari di centro-sinistra questa mattina sono tornati a chiedere risposte immediate all'amministrazione comunale. È passato il ferragosto, tra poco inizieranno le scuole, anche gli asili e purtroppo tanti bambini dovranno aspettare e attendere una risposta dal comune per sapere se potranno accedere proprio a queste prime istruzioni infantili. Sì, in bilico ci sono 180 bambini le cui famiglie non sanno se potranno avere garantito il loro diritto alla formazione e all'educazione. 180 famiglie che quindi non sanno quale sarà il loro futuro rispetto a questa questione. Non è negli ultimi anni mai successa una cosa del genere quando ero assessore in regione, già dal 2017 avevo, grazie a dei fondi nazionali ma anche regionali ma anche comunali, garantito l'abbattimento delle liste d'attesa su tutti gli asili comunali. Oggi questo non è più così, non è più una realtà per cui ci sono in bilico 180 persone. Mancano 190 mila euro. Noi facevamo un emendamento durante la sessione del bilancio per garantire, per spostare questi 190 mila euro sui nidi affinché tutti i bambini pescaresi potessero andare al nido ma la maggioranza bocciò questo emendamento dicendoci che avrebbero in qualche modo trovato i fondi cosa che non hanno fatto. Quindi come ha ben detto lei fra un po' ricomincia la scuola ma soprattutto anche le mamme e i papà ricominciano a lavorare e i bambini non ancora sanno se potranno usufruire di questo servizio. La regione fa delle scelte, ha dato dei fondi ad altri e non ha messo i fondi sui nidi quindi è una scelta politica quella di lasciare i bambini a casa. Purtroppo dal 27 luglio noi non abbiamo avuto alcuna risposta dal comune abbiamo continuato a mandare email e attendiamo ancora la risposta ma siamo ancora in lista d'attesa ci sono 180 famiglie in questa situazione che hanno bisogno anche di una continuità didattica poiché i bambini hanno iniziato l'anno scolastico l'anno scorso e ovviamente lo dovrebbero proseguire nella stessa struttura ma senza la convenzione del progetto il nido diritto dei bambini non siamo in grado di assicurare loro questa continuità in quanto le rette dei nidi privati a Pescara si collocano al secondo posto in Italia dopo Milano. Quindi sarebbe quasi impossibile mantenere i bambini a degli assidi nidi privati. Esattamente specialmente per le famiglie monoreddituali la spesa è inconcepibile si arriva in alcune strutture private anche a tetti di 700 euro. Siamo agli eventi al via una nuova edizione di Spoltore Ensemble a causa dell'emergenza sanitaria i posti sono limitati ma la manifestazione durerà sei giorni ieri l'inaugurazione con l'autrice Laura Morante. Su il sipario sulla 39esima edizione del festival Spoltore Ensemble la manifestazione che si svolge in Largo San Giovanni è stata spalmata su sei giornate così da consentire a più persone di assistere agli spettacoli. A causa Covid infatti la capienza è limitata ogni sera potrà esserci un massimo di 200 persone sedute e distanziate. La kermesse è stata inaugurata ieri dall'attrice e vincitrice del premio David di Donatello Laura Morante con lo spettacolo racconto Brividi Immorali. Uno le colpe ce l'ha o non ce l'ha e se ce l'ha lo riconosce e se le tiene a che serve tutta questa manfrina? Ora non voglio essere cattivo però per me il senso di colpa ha una funzione sola che ha forza ad essere sensibile e di soffrire invece di compatire quello a cui hai fatto un torto finisce che compatisci solo te stesso e che ti piangi addosso e basta. Sul palco poi anche la musica del jazz trio La proposta della manifestazione presenta elementi innovativi che sono la preparazione del terreno per la quarantesima edizione ha commentato il sindaco Luciano Di Lorito E siamo alla pagina dello sport parliamo di calcio parliamo di serie C soprattutto dell'inizio della Coppa Italia perché Domenico Leone di Barletta sarà il direttore di gara del match di Coppa tra Pescara e Olbia che si giocherà domani sera alle 20.45 riaprirà i battenti lo stadio adriatico Giovanni Cornacchia a distanza di 100 giorni dall'ultimo impegno ufficiale con un delfino ovviamente rivoluzionato nell'organico tra i sardi non ci sarà l'ex pescarese Cocco che proprio questa mattina ha risolto il contratto ci dice tutto nel servizio Andrea Costantini Conto la rovescia per il debutto ufficiale stagionale del Pescara c'è attesa per vedere all'opera il delfino nella gara nella quale riaprirà i battenti anche lo stadio adriatico Cornacchia che lo scorso 10 maggio ratificava la retrocessione del delfino e la festa per la Serie A della Salernitana a distanza di 100 giorni sarà il primo contatto col nuovo mondo della Serie C per il Pescara con un organico rivoluzionato nel corso di queste settimane la dirigenza si è avvicinata a quel tanto paventato Repulisti non ancora totale ma restano altri 12 giorni per finire l'opera dell'organico dello scorso anno dopo il mercato di gennaio tra i rientri per fine prestito giocatori ceduti e calciatori arrivati a scadenza di contratto in 25 sono andati via tenendo fuori i ragazzi portati stabilmente in prima squadra dalla primavera sin dall'inizio del ritiro sono otto i reduci il portiere Radaelli i difensori Drudi e Enzità i centrocampisti Busellato Memusciai e Valdifiori e l'attaccante Galano ci sono poi Bocic e Di Grazia tornati dai prestiti il drappello dei superstiti potrà ancora scendere nei prossimi giorni sotto la lente di ingrandimento la posizione dei separati in casa Busellato e Galano non è esclusa anche la partenza di Valdifiori che separato in casa non è resta ben integrato nel gruppo e darà il suo contributo in caso di permanenza nelle prossime ore sarà definita l'operazione che riporterà a Pescara Giuseppe Rizzo della Triestina già a Biancazzurro tra il 2013 e il 2014 da Trieste rimbalza una voce che vuole il club alabardato interessato proprio a Busellato per sostituirlo ma il centrocampista Veneto vuole la Serie B e la meta Giuliana non sembra per lui appetibile intanto come detto è tempo di calcio giocato e domani sera il Pescara sfiderà l'Olbia in gara secca in palio il passaggio al secondo turno dove sarà affrontata la vincente di Grosseto Campobasso in caso di parità si disputeranno tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore inserita nello stesso girone del Delfino l'Olbia milita da 5 stagioni in interrotte in C tra le sue fila non milita più l'ex attaccante Biancazzurro Andrea Cocco che proprio stamani ha risolto il contratto al pari di Dalla Bernardina ma un fatto particolare è che sia pescarese il presidente Alessandro Marino che ha anche giocato nelle giovanili del Pescara la sua città che ha lasciato a 18 anni prima di proseguire fuori gli studi e intraprendere un percorso che lo ha portato ad essere un manager molto vicino al presidente del Cagliari Giulini che lo ha introdotto nel calcio è stato anche nel CDA del Cagliari prima di prendere il timone dell'Olbia Calcio nel 2015 una stretta sinergia quella tra Cagliari ed Olbia tanto che il confermato tecnico Max Canzi ha guidato la primavera del club di Giulini e in prima squadra è stato vice di Walter Zenga tra i calciatori occhio anche all'attaccante italiano di origini nigeriane King Yudo una meteora in casa Virtus Lanciano quando nel 2016 19enne arrivò in prestito dalla Juventus noi restiamo a parlare di questa partita con un comunicato dei Pescara Rangers giovedì sera con la gara di Coppa Italia contro l'Olbia anche per il nostro Pescara inizierà una nuova stagione purtroppo non ci siamo ancora lasciati completamente alle spalle questa maledetta pandemia con tutte le restrizioni che a livello sociale comporta limitazioni scrivono i Pescara Rangers che ovviamente interessano anche gli eventi sportivi all'interno degli stadi proprio per questo noi giovedì saremo fuori la curva nord saremo pronti a spiegare a tutti quella che sarà la nostra decisione riguardo la possibilità di entrare nel nostro stadio dove dopo troppo tempo di assenza vorremmo tornare i tifosi sperano che poi a malincuore possano esserci momenti migliori invitiamo pertanto i tifosi biancazzurri dicono ancora i Pescara Rangers ad unirsi a noi domani sera sotto la curva nord sperando che il tanto atteso tempo quello in cui si potrà tornare negli stadi arriverà al più presto questo uno stralcio del comunicato dei Pescara Rangers noi parliamo ancora di calcio parliamo ancora di serie C del Teramo perché è conclusa l'operazione di mercato importante che ha visto l'arrivo in bianco rosso di Gabriele Bernardotto classe 1997 in prestito dall'Avellino fumata bianca tra Irpini e Biancorossi e in serata l'ufficialità dell'operazione che vede dunque per il Teramo l'arrivo di un giocatore di sostanza vediamo il servizio di Jacopo Forcella sarà Gabriele Bernardotto l'uomo chiamato a portare al Teramo i gol che serviranno per l'obiettivo stagionale del diavolo l'attaccante classe 1997 ieri sera è virtualmente diventato un nuovo calciatore bianco rosso con la fumata bianca per l'operazione in prestito per una stagione l'attaccante però prima rinnoverà il contratto in scadenza con l'Avellino nel 2022 per altri due anni e poi sarà libero di accasarsi in Abruzzo dove lo aspetta Federico Guidi che ha voluto fortemente la centravanti ex Vibonese e che nella stagione passata in Irpinia ha messo insieme 34 presenze e 5 reti il pressing delle ultime ore del direttore sportivo Carlo Musa ha permesso di sbaragliare la concorrenza di Gubbio che era decisamente in pol fino a una settimana fa Paganese e Monterosi cresciuto nelle giovanili della lupa Roma Bernardotto si è fatto strada nei gironi H e G di Serie D con le maglie di Anzio Prima e Trastevere Poi ma girone G spesso vuol dire anche Sardegna ed ecco che nella stagione 2018-2019 arriva la chiamata proprio dall'isola precisamente l'Anusei dove raggiunge il livello più alto della sua carriera 15 reti in 34 incontri giocati con l'Anusei che fino alla fine contende all'Avellino un posto tra i professionisti i Biancoverdi torneranno nella sua carriera ma non subito perché Bernardotto in Serie C ci va l'anno dopo ma passando per la Calabria e dalla Vibonese con cui sfiora stagione 19-20 i play-off ad un punto di distanza dall'Avellino che a questo punto si convince lo prende l'estate scorsa tanta concorrenza e forse la sua stagione più opaca da riscattare con i nuovi colori del Teramo molto presto ingaggio importante da circa 85.000 euro più i bonus legati al rendimento assicurano un uomo di grande forza fisica e di impatto nell'area avversaria imprescindibile per una squadra il Teramo che proprio in quella zona di campo ha avuto le maggiori difficoltà nel campionato appena andato agli archivi adesso davanti con Birligea che sarà la principale alternativa proprio a Bernardotto mancano solo gli esterni mancini considerato che a destra con Malotti arrivato ieri alla corte di guidi per il primo allenamento e con K la batteria sul fronte destro dovrebbe essere completa mancherebbero poi gli esterni di difesa ad alternare a Rillo e a Ziosmanovic prima dell'avvio anticipato di campionato perché sono ufficiali anche gli orari delle prime tre giornate sabato 28 in serata a Chiavari l'esordio contro la Virtus Sentella poi due gare di domenica alle 17.30 la seconda col Siena domenica 5 settembre la terza a Modena domenica 12 e il responsabile sanitario del Teramo Siriano Cordoni questa mattina ha fatto il punto sul ciclo di vaccinazioni all'interno del gruppo squadra bianco-rosso e ha espresso ottimismo rispetto al campionato che sta per avere inizio vediamo questa prima fase particolare attenzione è stata posta alla situazione vaccinale dei ragazzi è chiaro che la pandemia si vince solo vaccinando dando la possibilità ai nostri organismi di potersi difendere dai virus si è cominciata la verifica di tutte le vaccinazioni chi non era vaccinato ha cominciato la vaccinazione chi ne aveva completato una aveva fatto una sola vaccinazione ha completato il ciclo vaccinale siamo particolarmente orgogliosi che questa nostra mentalità è entrata nei ragazzi quindi non abbiamo avuto nessun no covid diciamo tutti quanti si sono voluti vaccinare si stanno vaccinando questo ci riempie di soddisfazione perché significa che il buon lavoro fatto lo scorso anno nella nostra fermezza nei comportamenti ci permette di poter guardare speriamo con serenità al futuro come invece è il protocollo per i giocatori che arrivano in corso d'opera per le vaccinazioni se hanno completato il ciclo vaccinale hanno il cosiddetto green pass il problema non si pone altrimenti vengono sottoposti a tamponi a tamponi nasale si rientra nel programma dello scorso anno ogni 4 giorni c'è il tampone nasale in questa maniera possono essere aggregati al gruppo mettiamo in contatto sappiamo il vaccino che ha fatto quando l'ha fatto la data se deve rifare un richiamo fa il tampone se ha completato il ciclo vaccinale viene inserito direttamente in squadra è chiaro che se non hanno completato lo ribadisco se non hanno completato il ciclo vaccinale c'è maggiore attenzione nel momento stesso che il vaccino è stato completato i problemi si riducono enormemente io sono molto ottimista veramente molto ottimista è chiaro che non dobbiamo abbassare la guardia lo sappiamo tutti lo ripetono tutti i giorni i mass media all'interno nel nostro gruppo ovviamente il pericolo di contagio è ridotto veramente al minimo anzi secondo me ha zerato completamente un minimo di rischio ci potrebbe essere se i ragazzi frequentano ambienti dove ambienti chiusi dove ci possa ci possa essere il rischio di covid però sono molto ottimista non mi voglio lasciare andare all'ottimismo più ampio però io penso che quest'anno potremmo assistere a un campionato dove la concentrazione rimarrà sul gesto atletico e meno sulle vicende che ruotano intorno al gesto atletico come purtroppo è stato lo scorso anno dove un campionato è stato drammaticamente gestito falsato o cambiato in funzione delle infezioni da covid questo era l'ultimo servizio del nostro appuntamento con l'informazione grazie come sempre per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni con il TG6 buona serata grazie a tutti